Prima Radio Andiamo ancora a spasso con la storia, lo facciamo questa mattina con Bartolomeo Massimo D'Azeglio che è uno scrittore che ha di recente pubblicato un libro L'Italia finisce a Napoli, diamo il benvenuto a Bartolomeo Massimo D'Azeglio Grazie, grazie davvero per avermi ospitato Oltretutto ho notato molta cordialità da parte vostra Grazie E da volta, magari in certi ambienti culturali, ti trovi persone cordiali poi dietro Invece qui siete una grande famiglia, è davvero un gran mattino E non lo dico, non è retorica Parliamo del libro, l'Italia finisce a Napoli, ma è davvero così? Sotto certi aspetti sì, l'Italia finisce a Napoli perché? Perché è una provocazione Guardate le pubblicità, guardate magari gli spaghetti ambientati a Napoli o piuttosto che a Firenze O magari i biscotti, una normale famiglia che mangia dei biscotti a Modena o magari a Milano Ma voi ci vedreste tutto questo a Trapani o a Messina o a Catania o a Palermo? Beh, la verità è che il Nord Italia, per una serie di ragioni, ha vinto e ha soverchiato il Sud profondo Napoli ha, beh, Napoli alla fine ha partecipato alla nascente cultura italiana Con dagli angioini in poi E Palermo meno Ma in realtà Palermo, al tempo dei Normanni, è stata una città importante Così importante da... e poi ce la siamo scordata Questa è la verità Quindi questo libro ripercorre la storia da maniera critica Perché quando si parla di conquista, di dominazione, non sempre furono rose e fiori dunque Sì, assolutamente sì In realtà i Normanni furono agli inizi una vera e propria piaga Una piaga che interessò soprattutto la Puglia e anche la Campania Poi piano piano questi Normanni, anzi, Dio ci salvi dal furore normanno Piano piano si... divennero i nostri angeli custodi Ci liberarono dallo straniero, in questo caso dai bizantini, dai longobardi E anche dagli arabi in Sicilia Fu Roberto Eguiscardo e Ruggero I Altavilla a liberare la Sicilia dagli arabi Ma non fu soltanto una liberazione Ma la costruzione di un regno, il primo regno, il primo concetto di nazione Nacque in Sicilia e nacque a Palermo Quindi c'è da ricordare più i Normanni che lo Stupormundi, secondo te? Assolutamente sì Perché? Perché? Lo Stupormundi... se Stupormundi è stato... è stato nelle Puglie Lui le chiamava pupille dei nostri occhi Stiamo parlando di Federico... Di Federico, del grande Federico II Ma ripeto, se il grande non fu certo a casa nostra A Palermo noi dobbiamo, dobbiamo vantare Ruggero II Che sotto molti aspetti, Eric Kaspar, il biografo moderno A dirlo, lui lo accosta a Carlo Magno A Carlo Magno in quanto a potenza, in quanto a intelligenza politica Stupormundi, cioè Federico II, fu un uomo che io per certi versi ammiro Tant'è che ho scritto molte cose belle nel mio libro Ma anche tante cose brutte Perché fu uno degli uomini più malvagi di tutto il Medioevo messi insieme Ecco Quindi mi è sembrato di capire Una rivisitazione della storia in chiave critica Assolutamente sì Nel senso che da sempre ci dicono La Sicilia è stato un luogo di conquista Un luogo di dominazione Presentandoci come benefattori questi stranieri Ma proprio così non fu No, no Allora, a mio avviso i romani non ci diedero niente Niente di veramente importante Chi ci diede davvero furono i greci I greci, la magna grecia Prima della scesa di Roma Fu Siracusa Era Siracusa a dominare dal punto di vista culturale E talvolta anche politico Il centro del Mediterraneo Fu Siracusa Non scordiamoci le città come Acragas O Acragas anzi O Messina O volendo anche la stessa Palermo Che non era greca Vabbè, una città mista Ma comunque non era greca Ma certamente era una città fenicia Insomma, questo mondo Prima della venuta dei romani Era un mondo Era l'America Dell'antichità Poi tutto questo finì per colpa Dei romani E per colpa Cominciare Certo il primo seme La storia è lunga Complessa Non è Non si posso Non è Però voglio dire Dalla sconfitta di Vercingetorige Il capo dei Galli Quindi ad opera di Giulio Cesare Piano piano Questa Gli interessi Dei romani E quindi la latinità Si spostò Dal Mediterraneo centrale All'Europa Nord Occidentale E' lì Che noi dobbiamo iniziare a Come dire A vedere L'inizio del nostro declino Quindi Mi è sembrato di capire Nessuno ha portato Tanto bene Alla Sicilia Tranne qualche Piccola parentesi De Normanna Poi ci fu L'unità d'Italia Cosa portò l'unità L'unità d'Italia Fu l'ultima Grande patosta E se non E grazie a Palermo Che Ai palermitani Dall'ora Che seppero reagire Perché seppero reagire Costruendo Ad esempio Due grandi teatri Si volle Il teatro Massimo Vittorio Emanuele Massimo Che fosse il più grande Teatro d'Italia Superasse Quello di Napoli San Carlo di Napoli Addirittura Per ampiezza di sala Il più grande Deuropera Cioè superando L'opera Di Parigi Ma Le razzie Che vennero fatte Al tempo Quindi nell'ottocento Furono enormi Incommensurabili E Palermo Praticamente Da lì Poi in fondo Non si riprese più Poi ci furasse La prima guerra mondiale Eccetera 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 Ma Perché questo spostamento Ormai noi eravamo Periferia di tutto Ci fu una Come dire Un ultimo tentativo Un'ultima voglia Di riscatto Ma di una terra Che ormai Era periferia D'Europa Per noi arrivare A concetto di periferia Ma anche Di centralità Perché una volta Il mondo era al contrario Il nord era il sud E il sud era il nord No? Cioè in termini di potenza Economico Culturale Di idee Noi dobbiamo arrivare Ancora al tempo Dei normanni A parte Federico II Anche un altro eroe L'eroe dei due mondi Nel suo libro Nel tuo libro Riceve Una Una smussata Negli angoli Stiamo parlando Di Garibaldi Sì infatti Infatti Garibaldi In realtà Che venne usato Letteralmente Fu un uomo in gamba Certamente Ma Certo siamo tutti In gamba In gamba forse Ingenuo Non so Non credo fosse ingenuo Sicuramente era Era manovrato A dovere Dagli inglesi Persino dagli americani Si facevano collette Per cacciare I borbone E Le battaglie Sembra La battaglia Certo io non c'ero Ma insomma Molte fonti dicono Che Tipo Lo storico Rodo Santoro Che la battaglia Radicala Tafimi Non ci fu Fu sostanzialmente Una farsa Che molti soldati Vennero rinchiusi Nel palazzo reale Sembra addirittura 20.000 O comunque Molte migliaia Affinché Queste battaglie Non ci fossero Perché? Perché dovevano Vincere i Savoia I Savoia I Savoia vinsero Il Banco di Palermo Venne letteralmente svuotato Per pagare Giuseppe Garibaldi Insomma Si riempì Si riempì Di le tasche Di denaro Tutti felici Tutti contenti Eccetto la Sicilia Che grazie a Florio Riuscì Miracolosamente Malgrado tutto A riprendersi E dopo di che poi Insomma È stato quel che è stato È stato quel che è stato Che valore ha Quest'oggi Scrivere Un libro Storico Allora Io credo La solità massima Non c'è Futuro Senza storia No Senza conoscenza Della storia Però Conoscere La vera storia Non Federico II Non Molte persone Quando Mi capita Di parlare di storia Con persone Per strada Mi dico Ah Sì 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 Ho capito Quando al tempo C'era C'era I Borboni C'era il regno Delle due Sicilie No Signori Non abbiamo Capito Niente Ribadisco La storia È scritta Da chi Vince E Non furono Non fummo noi A vincere Ma I Borboni Ma se io vi dicessi Che gli Altavilla In quanto a splendore In quanto a ricchezza In quanto a Voglia di Creare un impero Come base Che avesse come base Palermo Superarono I Borbone Voi credereste Voi credereste Che Palermo Fu Di gran lunga La città Più ricca D'Europa Addirittura Con un pil Che Eguagliava Le ricchezze Della sola Inghilterra Quindi Tutta l'Inghilterra Al tempo di Enrico Secondo Plantageneto Tutte le ricchezze Della sola Inghilterra Pareggiavano Le ricchezze Della sola Palermo Dunque Una ricchezza Eccezionale Che cominciò Già Con Beh Dalla contessa Dell'Asia Del Vasto Che era Una furbona Figlia D'Indrocchia Si direbbe E tutte queste storie Le troviamo in questo L'Italia Finisce A Napoli Di Bartolomeo Massimo D'Azeglio In tutte le librerie Progetti futuri Allora Io sogno Io spero Io mi auguro Che Dio mi aiuti Di realizzare A Palermo Il museo Avrà un doppio nome Necessariamente Perché se tu Non ci metti L'arabo Non manno Davanti Non Non Quindi Museo Della civiltà Arabo Normanna Primo Della civiltà Siciliana Signore e signori Noi abbiamo Costruito Abbiamo fatto Una civiltà Grazie a Normanni Autoctona Nostra Perché Dobbiamo Vendere la nostra Anima Già che abbiamo Prodotto una Nostra civiltà Civiltà siciliana Punto e basta Allora ci auguriamo Di ritrovare Il direttore del museo Grazie Bartolomeo Massimo D'Azeglio Magari Magari Grazie ancora Grazie Grazie a voi Grazie a voi di cuore Prima Radio Grazie a voi